Ciao a tutti ragazzi, io sono Emanuele, Eugenio sta su a studiare. Oggi giocheremo a PES e al prossimo video giocheremo a un gioco molto bello che si chiamerà Bordon Parasy. Cioè che ho gioco delle macchine e poi con il video. Oggi gioco con la squadra di mio fratello, perché mi piace fare Milano e Juve. Allora, ho già sbagliato, ok recupero, però mi sa che questo è principiante. Quindi la prossima partita farò, mi sa, o esperto o campione, perché questo infatti come vedete non è tanto forte. Ora l'hanno preso parla loro, quindi io la devo difendere, a me però mi sembra anche il controller. Mi sembra anche il controller, non so. No, 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 no. Ok. Ma rata ti scelta becchissima, devo ammettere. Ok. Ok, eccola. Farò solo nella partita però, eh. perchè il perchè sennò c'è troppo e quindi non posso caricarlo su youtube ok 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 vai manzo lì c'è proprio il tiro proprio il tiro è fuori 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 brutto di brutto di brutto di ma no non è forte però un botto forte ma tu in via oh sto soffando troppe ruote però impossibile scoprire fuori ma faccio un bel camigio nooo cerco di farmi il fighetto però non riesco oh no che trimming il tunnel raga tunnel mi ha fatto ok passiamola a bonucci faccio un camigio gioco va 3 2 1 no 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 oh 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 ok ai mio no eccoci ritornati eccoci ritornati raga un'occasione pericolosa eccoci ritornati dai 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 un pochino guarda, troppo forte, troppo forte l'ho tirata oh però sono ambetti eh vabbè non ci posso prendere guarda che fortuna questo baccaiocco sembra un bomberone sembra un bomberone no 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 primo tiro loro, ah no no hanno fatto un tiro in porta e un tiro non dalla parte però però Castigliego sta a fare tanto eh ah è piontec mi sono confuso ok rilancio lungo dai rilancio lungo allora mo scomento che faccio un ball dai ma lo dovrai fare facciamolo sto ball da adesso in poi non faccio più palle alte ok eccoci ritornati raga e e e qua ho appena fatto avevo fatto tunnel che si però scusate perché non non ve l'ho fatto vedere che stanno oh ci 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 Cioè, se vi faccio vedere, sembrano un po' vecchi dalla visuale, tipo certi giocatori a mio fratello sembrano vecchi, infatti tipo Piontech e altri, altri tantissimi, non dico solo quelli, molti altri sembrano vecchi, però non tutti, non tutti. Oh, no, mannaggia, Romagnoli. Oh, oh, aspetta, voglio fare un fanno. Ah, ci vanno, ci vanno, ma c'è un cambio. Eccoci ritornati, raga, non so perché non è successo niente, solo i cambi, e allora, Borini a posto di Castiglieco e Maturì a posto di Chedira. Ora ricominciamo, ok. Oh, ci vanno, perché ho pesciata. Buon'altro prossimo. Oh, 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 no. Oh, no, 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 Chiellini, facci te. Chiellini, no, no. Di un pelo, raga, di un pelo. Ok, rieccoci qua. Ah, venga, ok, ok, oh, no, no, me ne sono troppo, me ne sono troppo, me ne sono troppo, me ne sono troppo, comunque Chiellini e Bonucci hanno fatto una difesa, pure ora che, scusate perché non me l'ha fatto, non me l'ha fatta vedere, però bellissimo. Forse nel prossimo video vi dirò cosa hanno fatto, ok, ok, dai, 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 89esimo, 90esimo, 90esimo, dai che possiamo vincere, dai che possiamo, due minuti di recupero, dai, Alessandro. Si, due time pir cumorato, no, 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 un after. Oh, che buono, che buono, che buono, che difesa, e vinciamo a noi, e ancora a noi, 1 a 0, bella partita. addio ok ciao ok oh so contentissimo allora mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale e per oggi è tutto e ci rivediamo in un prossimo video con mio fratello forse insieme ciao ciao